Con una volta riallacciare il discorso della musica, possiamo dire musica terapia? Ha contribuito a renderti più sereno, a socializzare? Sì, sì, sì. Tra l'altro tu hai tanti profili social, no? Sì, 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 su Instagram, se possiamo, Lorenza Arena Page, su Facebook, Lorenza Arena Page, trovate tutto, anche tante novità che faremo più avanti, che riguarda, se posso dirlo già, svelarlo prima, parla di un padre, questa è un'altra storia, sempre anche penso anche alla mia, perché quando uno ha dei problemi di salute, dice chissà se ci arrivo, chissà se non ci arrivo a vedere la mia figlia che si sposa, cioè, ho fatto un brano dedicato a mia figlia, bella sull'altare, ideato dal mio manager Salvo Figura, che saluta e manda un bacio, parla di un padre, di tutti i sacrifici che fa per una figlia e la porta sull'altare, ce la fa, diciamo, a realizzare questo sogno. Senti, ma ai nostri telespettatori non dobbiamo dare l'idea che tu vivi di dramma? No, 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 no. E tu riesci anche adesso a pensierare? Sì, 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 ma io con i miei... Che lo evidenziamo subito... Però da forza, capito, di andare avanti, di dire... Lo evidenziamo subito con questo filmato che ti riguarda, una canzone da titolo Bella... Più bella della luna? Bella della luna. Stai ballando mezza luta, sei più bella della luna, mi sto innamorando di te. Dici che sei fidanzata, devi ritirarti a casa, ma non ti sequestro con me. Con me, con me... Con me, con me... Fino all'alba con te voglio stare, perché ormai su scavete... Su scavete... Ho bevuto esageratamente, che fai? La tua mano dove va? Stai ballando mezza luta, sei più bella della luna, mi sto innamorando di te. Dici che sei fidanzata, devi ritirarti a casa, ma non ti sequestro con me. Con me, con me... Con me... Un momento ilare, divertente, spensierato, come è giusto che sia alla tua età. A parte il brano che hai anticipato prima, però credo che tu debba fare addirittura delle cover pure, no? Sì, 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 oltre delle cover anche dei brani miei, come dicevo poco anzi, è bella sull'altare, che già è in preparazione. Grazie.